Allegria Allegria Ogni un aspetto di gioco E abbiamo stato proprio il primo a concludere con il zero il zero, il zero, il zero il zero, il zero, il zero il zero, il zero, il zero Juan Carlos Garcia Allegria 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 Grazie a tutti. Cosa emozioni a caldo di questa prima vittoria per te nelle Master d'Italia Memorial dalla Chiesa a casa oltretutto, quindi al Geseri San Lazzaro? Sì, sicuramente vincere a casa dà molto più satisfazione e soprattutto ringrazio il mio team che è stato dietro, come il mio groom, i veterinari e tutti quanti, perché alla fine è una vittoria del gruppo. Io sono un pezzettino, ma non sono tutto in questo sport. È un caldo molto speciale, ce l'ho da poco tempo, da 4-5 mesi, mi ha dato tante vittorie già in così poco tempo. Credo molto in lui e spero di poter continuare così. Questa sera partiamo precisamente per Porto in Portogallo e Corugna in Spagna. Quindi partirai carico di questa vittoria? Sicuramente. Come dico sempre, ce la metterò sempre tutta.